Oltre mezzo secolo di storia, quasi 60 anni al lavoro, la cos'è di La Proda, la vittoria del Cassa Edile Awards nella categoria Bomber. Il premio viene riconosciuto annualmente ad imprese, consulenti e lavoratori distinti per comportamenti virtuosi, in grado di rappresentare al meglio i valori positivi del sistema bilaterale delle costruzioni. Si legge nelle motivazioni del premio, ritirato da Gaetano Vecchio in Fiera del Levante. Occasione il Salone delle Costruzioni, appunto, di ritorno nel capoluogo pugliese dopo l'edizione 2019 e alle battute finali, proprio in queste ore. Base in Sicilia, interventi in tutta Italia sulle infrastrutture, abbiamo fatto soltanto il nostro dovere e lo abbiamo fatto giocando di squadra, spiega lui. Non lo racconta, ma non è stato facile, né scontato. Almeno se si conta che la lotta al malaffare e la capacità di non piegarsi alle pressioni indebite sui cantieri sono costate loro persino anni sotto scorta, con tutto quello che vuol dire non si dimentica, stavolta però si festeggia. La nostra è un'azienda di costruzioni che ha 56 anni in storia. La cosa dell'SPA quest'anno viene premiata come azienda bomber per aver contribuito maggiormente come crescita dei contributi della Cassedile. In realtà è un premio ai nostri collaboratori e alla crescita che questi hanno permesso all'azienda e alle opere che abbiamo realizzato. Ringrazio il sistema Cassedili di aver pensato a un premio del genere che di fatto premia quello che dovrebbe essere però una normalità, che è contribuire socialmente ai propri doveri contributivi.